ma io già sono partito prima che lui accendi ti registra ma tranquilli poi ci alterniamo qua c'è la rampetta minchia minchia si hanno scavato lì è il fatto che ciao quando non lo conosci ho visto loro sì questo pure da fare certo che si poteva fare molla molla e vado ciao ragazzi ah lo scolo c'è scritto vedi scolo get vai vai ok 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 Ciao Is that it Joe? Is that it Joe? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.